La famiglia Middleton, simbolo di unità e normalità, ha sempre messo in primo piano i legami familiari, un principio che ha segnato profondamente le vite di Kate e Pippa. La presenza affettuosa dei genitori, Michael e Carol, nei momenti pubblici con i nipoti testimonia quanto siano preziosi i rapporti familiari, anche davanti agli oneri della vita pubblica. Cresciuti in un ambiente sereno e protetto, i duchi di Cambridge sono determinati a trasmettere ai loro figli lo stesso calore e la stabilità. Ma la vita di Pippa, più ritirata rispetto a quella della sorella, presenta le sue sfide. La giovane madre, insieme al marito James Matthews, ha scelto di proteggere la propria privacy, ma questa decisione ha sollevato non poche polemiche nella comunità locale. Limitando l'accesso a un viottolo vicino alla loro imponente tenuta nel Berkshire, una residenza incantevole di 145 acri dal valore di 15 milioni di sterline, Pippa ha attirato l'irritazione dei vicini. Il loro angolo di paradiso, con i verdi prati e l'atmosfera bucolica, si è trasformato in un epicentro di malumori. La quiete che circonda la loro imponente dimora è scossa dalle lamentelle dei residenti, infastiditi da una situazione che ha preso pieghe inaspettate. La domanda sorge spontanea, fino a dove possono spingersi le scelte di una famiglia nel cercare la propria serenità? In un contesto dove il pubblico e il privato si mescolano, la vera sfida è mantenere l'armonia, proteggendo al contempo ciò che è più caro. La storia dei Middleton non è solo quella di una famiglia, ma di un delicato equilibrio tra vita privata e curiosità pubblica. La storia dei Middleton non è solo quella di un pubblico, ma di un pubblico, ma di un pubblico, ma di un pubblico. La storia dei Middleton non è solo quella di un pubblico, ma di un pubblico.